Multe salatissime per chi sporca la città. L'amministrazione comunale di Pescara ha rivisto i regolamenti del testo unico ambientale, rendendo assai più severe le sanzioni pecuniarie. In particolare la multa per abbandono di rifiuti in strada, su marciapiede o in qualunque area, passa dall'attuale massimo di 250 euro a quello di 3.000 euro, che diventa di 26.000 euro in caso di rifiuti speciali o pericolosi. Buttare una cartaccia, una cicca di sigaretta a terra oppure non raccogliere le deiezioni del proprio cane costerà almeno 500 euro invece degli attuali 25. A controllare saranno i quattro ausiliari ambientali e la polizia municipale e a breve, fanno sapere dal comune, verrà ulteriormente aumentato il numero di telecamere in città. Purtroppo continuiamo a vivere con la piaga dell'inciviltà, hanno dichiarato in un comunicato stampa il presidente della Commissione Ambiente, Ivo Petrelli, e l'assessore Isabella Del Trecco. Piaga che, secondo le sintroppe facili previsioni, proseguirà fino a quando avremo un solo cassonetto stradale lungo le nostre vie. L'amministrazione infatti sta ampliando il servizio porta a porta di raccolta dei rifiuti. Dal 24 gennaio riguarderà l'intero quartiere Colli, residenti e attività commerciali e ogni bidone stradale sparirà. Entro il 2022 poi la raccolta capillare avanzerà nelle vie del centro, mentre si predispongono nuove campagne informative rivolte ai cittadini.